Finisce a Senzareti la gara del Tullo-Morgagni tra Forlì e Pineto, partita solo a tratti piacevoli in un clima primaverile e che la squadra adriatica interpreta con buona personalità, a cui manca però il sostegno solamente del gol che avrebbe indirizzato la partita. Amalo si affida a Pedalino come riferimento centrale d'attacco con Masse e Camplone a dargli sostegno. Amadio in campo dal primo minuto, mentre dietro c'è Orlando e non Pepe a far coppia con Pomante. Nel Forlì 4-3-1-2 non c'è lo squalificato Mazzotti al suo posto in mezzo al campo Prati, Tonelli tra le linee per provare ad ispirare Castellani e l'ex terramano Alex Ambrosini. Pineto in evidenza già in avvio, della quercia al sesto pennella il traversone che Pedalino gira verso Mortenti, bravo ad alzare in corner la traiettoria dell'attaccante Biancoazzurro. Ospiti più spigliati, biancorossi di casa che fanno fatica nella manovra che solo al diciannovesimo si affacciano dalle parti di Fargione con il corner di Ambrosini che pesca Brunetti il cui colpo di testa si perde fuori in un soffio. Parte centrale di match abbastanza noiosa e rotta dall'occasione che Fortunato si ritrova al 33esimo sul piattone destro dopo un corner di Marianeschi. La battuta del centrocampista è troppo debole e Mordenti si salva con una rispinta, così come al 36esimo fa Fargione dall'altra parte quando Ambrosini prova a bucarlo con il diagonale Mancino servito da Castellani. Il portiere ospite fa buona guardia. Il Pineto torna a farsi vedere al 43esimo con la discesa di Massa che conclude l'azione personale con una sventola che passa però alta sopra la traversa. La squadra di Amaolo si ripresenta dopo l'intervallo con lo stesso spirito e Fortunato al 54esimo a chiamare Mordenti alla risposta prodigiosa sulla punizione bomba che calcia la posizione peraltro defilata. Occasione colossale per i biancazzurri e il Forlì tira un sospiro di sollievo. Poi tanti troppi minuti nei quali il Pineto nonostante una buona prestazione non riesce a trovare lo spazio giusto per colpire i galletti che ridisegnano l'attacco con Graziani prima e ferre poi per Castellani e Ambrosini. Proprio quel Graziani che al 62esimo viene anticipato a ridosso della porta bianco-azzurra su Astrid di Tonelli. Le ultime emozioni nel recupero. Al minuto 92 Porrini pescato all'interno dell'area di rigore da Marianeschi alza troppo la traiettoria mentre al 94esimo il Forlì protesta per un contatto tra Cortesi e Fargione che Bianchini giudica regolare con il numero 26 che rimedia anche un cartellino giallo. Poi più nulla fino al triplice fischio che conferma i progressi del Pineto che ora dovrà vedersela con la San Giustese al Mariani Pavone già domenica per un match davvero da non perdere. Mister Amaolo non è arrivata la vittoria però probabilmente quello che ti ha soddisfatto al dia del pareggio probabilmente la personalità che abbiamo visto al Pineto questo pomeriggio nell'affrontare la partita. Sì, peccato per la vittoria che non è arrivata. La prestazione sicuramente la meritava perché venire qui a Forlì e imporre il proprio gioco con personalità, senza timore, non è un campo difficile contro la squadra forte l'abbiamo fatto per tutti i 90 minuti. Peccato però come hai detto te la prestazione mi conforta e dobbiamo insistere a continuare su questo punto di vista e prima o poi le vittorie arriveranno, se le prestazioni sono queste le vittorie arriveranno. Hai avuto anche delle risposte positive da quel minimo turnover che ci vuole in una settimana con tre impegni. Sì, delle risposte importanti come quella di Amadio che era all'esordio e di Camploni che era all'esordio al primo minuto e a un certo momento non sapevo chi cambiare perché la squadra stava facendo talmente bene che facevo fatica a tirare fuori un giocatore su una squadra che era molto equilibrata e compatta e giocava bene al calcio con buone geometrie quindi mi dispiaciuto per tenere fuori qualcuno però ero in difficoltà nelle scelte e siamo andati avanti fino alla fine perché speravo sempre di trovare la zambata vincente. Domenica ci sarà una grande partita perché arriva una delle due capoliste arriva la Sangiustese che oggi ha battuto nettamente la Vastese 3 a 0 sarà una partita in cui Amaolo vorrà rivedere questo Pineto? Beh, io vorrei rivedere il Pineto di oggi il Pineto di domenica scorso col Matelica che tra l'altro oggi ha battuto il Cesena quindi è sembrata una vittoria scontata invece è stata una vittoria difficile che la squadra ha meritato e ha interpretato bene la partita Domenica ci sarà la Sangiustese ogni domenica è un'altra storia quindi questo campionato è un campionato di altissimo livello con squadre secondo me molto forti quindi bisogna giocarsi le partite e interpretarle bene poi il risultato, a prescindere se giochi in casa o in trasferta dipende sempre dalla prestazione che uno fa Mister, un pareggio 0-0 con il Pineto è una partita che solo per alcuni tratti è stata una buona impressione tanti momenti di studio che partita è stata per lei? Sapevamo che il Pineto è una squadra fortissima l'aveva dimostrato il domenica prima ma anche il gol con Francavilla non meritava un passivo così alto è una squadra fatta di giocatori che hanno fatto la Lega Pro o la Serie B quindi sapevamo delle difficoltà sicuramente dal punto di vista del fraseggio e soprattutto nel suo tempo hanno fatto meglio il Pineto ma a occasioni più o meno ci siamo equivalsi e era ammarico per un minuto finale perché c'è una cosa che non ci è stata data e ovviamente poteva influenzare il match con quel rigore un contatto cortese di Fargione come l'ha visto dalla panchina? Evidente, prima cosa il portiere quando esce così e prende la palla il giocatore tendenzialmente viene sempre dato però a parte questo complimenti al Pineto perché comunque ha fatto una bella partita noi potevamo fare meglio però con le forze che avevamo abbiamo comunque retto e niente ci prepariamo per la prossima